Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo test di registrazione video Colgo l'occasione per augurare a tutti un buon 2017 E per ricordarvi che su youtube le regole sono leggermente cambiate Quindi se volete rimanere sintonizzati su tutte le nostre nuove uscite E ricevere le notifiche da parte di youtube Quando esce un nuovo video è necessario cliccare sulla campanellina presente vicino al tasto iscriviti Sempre su youtube Così da rimanere sempre sintonizzati con noi Stiamo riprendendo, tornando a noi da un UMI Plus E Con un sensore posteriore da 13 megapixel, un Samsung 3L8 Con lenti a 5 elementi E la risoluzione in cui stiamo girando in questo momento è 1080p Ovvero Full HD Proviamo adesso a fare un controluce Vediamo come reagisce con un pan veloce ai cambiamenti di luminosità Abbiamo già provato in parte la stabilizzazione La proviamo ancora provando a camminare L'autofocus è di tipo PDAF Lo proviamo subito Sembra anche abbastanza veloce Proviamo a fare anche uno zoom Fino a 5x Ok per questo test è tutto Un saluto a tutti da Luca Per GizChina.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti